Siamo nel giardino, nel parco della residenza estiva di Luciano Manara, questo eroe del risorgimento italiano che viene ricordato qui a Barzanò con una serie di manifestazioni. Siamo con la signora Cecilia Garbarino Salmaso che può ricordare la storia di questo complesso, di questo edificio che ha visto Luciano Manara e che è l'attuale proprietaria del complesso. La storia risale praticamente alla fine del Seicento, le prime notizie di questa casa risangono appunto a quell'epoca e pare che appartenesse alla famiglia Pirovano di cui c'è anche la tomba di fronte alla tomba di Luciano Manara. Poi non si sa per quale vicissitudini è passata a Manara e qui Luciano Manara pare che abbia trascorso alcuni periodi estivi della sua infanzia, ma non era la sua residenza fissa ovviamente, era da quando l'ha sposato poi ad Accinate e Milano. Dopo Manara per questione di passaggio di parentela è passato ai nobili emanati che l'hanno tenuta fino all'inizio del 1900, quando poi i miei l'hanno acquistata e io figlia sono onorata e onerata di questa proprietà, di cui veramente è una cosa piacevolissima e stupenda poter avere l'onore di averla, però è anche un grande onore. E' un grande onno mantenuto. Quindi praticamente la famiglia Garbarino è proprietaria da oltre 100 anni? No, da meno di 100 anni, sarà 70 anni, 80 anni. Quindi è circa la prima metà del novecento? La prima metà del novecento, nei primi anni del trenta, degli anni trenta. Volevo chiedere signora Cecilia, domeniche in occasione di questa importante manifestazione promossa dal comune di Barzanò, che rientra nel programma delle celebrazioni del centocinquantesimo coordinate dalla Prefettura di Lecco, sarà possibile entrare a visitare? Sarò molto felice veramente di accogliere i bersaglieri e le autorità in questa residenza, in quanto è sempre stata un'abitudine, fra l'altro anche di mia madre e di mio padre, nelle varie occasioni di manifestazione per Luciano Manara, e qui abbiamo fra l'altro anche una sede di bersaglieri, avevamo una sede di bersaglieri piuttosto importante, raccogliere i bersaglieri, fra l'altro nell'occasione del centenario dell'Unità d'Italia, è stata fatta una grande manifestazione, fra l'altro con una ripresa sul Tg1, che mi ricordo allora, era un grande avvenimento. La villa, il complesso, ricorda ancora qualche cimeglio particolarmente legato alla famiglia Manara o a Luciano Manara? No, 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 in particolare la casa ha poco in eredità, diciamo, perché purtroppo quando c'è stato il passaggio di proprietà, i loro mediatori hanno tolto completamente chissà dove sono finiti i cimeli, ci è rimasto qualche pochissimo cosa o qualche busto di geisso, eccetera e basta. Oggi la villa è regolarmente abitata? Da noi, da noi, sì. Domenica c'è un orario di apertura e di visita? Beh, da quando penso inizi la manifestazione, cioè praticamente dalle 10 e mezza, a parte il fatto che mi piacerebbe partecipare dall'inizio fino alla fine della manifestazione, quindi vabbè, non lo so, non abbiamo custodi. Ricordiamo in conclusione che Luciano Manara è caduto sul Gianicolo nella difesa della comunità del 1849 e fra i busti degli eroi del Gianicolo, sulla sommità di questo colle che guarda la capitale, c'è anche il busto di Luciano Manara. Esatto, e fra l'altro devo ricordare una cosa che non avevo detto prima, che la mamma di Luciano Manara era molto affezionata a Barzanò e a questa casa, tant'è che appunto si è data da fare, ha speso moltissime energie per poter trasferire le spoglie di suo figlio qui a Barzanò, insomma, di poter erigere una cappella per raccogliere. Fra l'altro ci sono anche le spoglie di Enrico Dandolo, che se non mi ricordo male sono venute qua proprio in occasione del centenario. Siamo con il sindaco di Barzanò, Franca Colombo. Domenica è una manifestazione molto importante, quella di Luciano Manara e di tutto quello che poi ricorderemo qui a Barzanò, anche perché apre ufficialmente qualche settimana prima della data storica del 17 marzo le manifestazioni del 150esimo dell'unità nella provincia di Lecco, coordinate dalla prefettura di Lecco. Sono orgolosi di essere gli apripista. La manifestazione praticamente ruota intorno a Luciano Manara, ma si proietta più sulle cinque giornate di Milano. Perché? Sì, allora la manifestazione nasce dalla volontà degli eredi paladini di donare alla comunità di Barzanò, di consegnare alla comunità di Barzanò la bandiera che i loro antenati Cesare, Leone e Paladini utilizzarono durante la prima giornata delle cinque giornate di Milano. la prima giornata delle battaglie delle cinque giornate di Milano. Quindi questa bandiera che è stata custodita finora dagli eredi paladini verrà da domenica consegnata al sindaco in rappresentanza della cittadinanza di Barzanò e quindi i cittadini di Barzanò avranno questa testimonianza e la custodiranno poi per il futuro. Vogliamo ricordare rapidamente la manifestazione che avrà inizio sul piazzale della Canonica di San Salvatore, poi ci sarà un corteo? Certo, allora dalla Canonica di San Salvatore il corteo si sposterà accompagnato dalla fanfara dei bersaglieri che ormai è diventata una tradizione in paese, percorrerà la via Castello, verrà poi in questa casa e farà un omaggio a Luciano Manara con alcune loro canzoni e da qui proseguiremo verso il centro per l'alza bandiera e poi la cerimonia di consegna da parte appunto degli eredi paladini al sindaco della bandiera che verrà posizionata in una teca che in preparazione verrà appunto messa nell'ingresso del comune. Da lì procederemo verso il mausoleo di Luciano Manara per una deposizione di corona in segno di chiaramente rispetto, onore e affetto di questo nostro antenato. Tante associazioni o meglio diverse associazioni, diverse iniziative ricordano Luciano Manara a Barzanò. Vogliamo rapidamente ricordarlo signor sindaco? Luciano Manara a Barzanò è una presenza molto importante, è rappresentata da associazioni soprattutto sportive, essendo Luciano Manara giovane, morto purtroppo giovane, è sempre stato ricordato dalla Manara Calcio che è l'associazione sportiva per la quale stiamo preparando il campo nuovo e quindi ci rivedremo per festeggiare nuovamente e poi dall'associazione bocciofila Manara. Entrambe sono molto longeve perché la seconda ha 52 anni e la prima ne ha addirittura 102. Ricordiamo che domenica prossima saranno presenti anche i sindaci di comuni che legate ai ricordi di Luciano Manara e agli eventi risorgimentali e sono i sindaci di Cava Manara e di Antegnate, quindi descriveremo un po' la storia attraverso i paesi dove Luciano Manara ha avuto una grossa presenza. Ecco, un'ultima domanda riguarda questo. È stata già ricordata la presenza della fanfare dei bersaglieri Guglielo Colombo della sezione dei fanti primati di Lecco, ma sarà altre si presente una rappresentanza dello storico reggimento d'artiglieria a cavallo della caserma Perrucchetti Santa Barbara in Milano. Infatti, siamo molto orgogliosi di poterli ospitare. È la prima volta che vengono a Barzanò e li stiamo aspettando con tanta curiosità e affetto. Ecco, e voi consegnerete qualcosa anche di ricordo di questa giornata? E consegneremo certamente agli ospiti la storia di Barzanò, un libro che è stato scritto da Don Rinaldo Beretta che è uno storico che ha abitato appunto a Barzanò e che riporta proprio... È un documento, non è un libro giusto per presentare Barzanò, ma è un documento storico importante. Ecco, a proposito di libri, allora dobbiamo anche ricordare che è uscito anche un libro su Luciano Manara che avete presentato in comune. Sì, questa è un'iniziativa recente rivolta verso i ragazzi della scuola ed è un romanzo, un po' una vita romanzata di Luciano Manara da bambino. Bene, allora concludiamo dicendo, fanti piumati, piumi al vento, domenica tutti a Barzanò con Luciano Manara. Tutti a Barzanò, tutti insieme a festeggiare questo 150esimo anniversario dell'Unità della Nostra Nazione.